Controllo del Green Pass anche a bordo dei treni in Italia e possibilità di fermare un convoglio se a bordo del treno c'è un sospetto caso di Covid e una delle novità annunciate nella nuova ordinanza emessa dal Ministero dei Trasporti in accordo con il Ministero della Salute, secondo la quale il Green Pass da ora andrebbe controllato a terra, dunque prima di salire a bordo del treno, ma qualora questo non fosse possibile, il controllo può essere effettuato dal personale di bordo insieme al controllo del biglietto di viaggio, si legge nel testo dell'ordinanza. E ancora in caso di passeggeri che a bordo treno presentino sintomi riconducibili all'affezione da Covid, si legge sempre nell'ordinanza, la Polizia Ferroviaria e le autorità sanitarie devono essere prontamente informate. All'esito della relativa valutazione sulle condizioni di salute del passeggero, a queste spetta la decisione in merito all'opportunità di fermare il treno per procedere ad un intervento o prevedere appositi spazi dedicati. L'impresa ferroviaria procederà successivamente alla sanificazione specifica del convoglio interessato dall'emergenza prima di rimetterlo nella disponibilità di esercizio. Una presa di posizione è quella del Governo che sembra trovare d'accordo anche i pendolari. Secondo me è giusto comunque controllare per comunque sparsare in sicurezza la persona e la famiglia, però è anche brutto magari per una persona che deve tornare a casa, dover stoppare le corse. Questa mattina gliel'hanno controllato? No. Penso la stessa cosa, penso che comunque è molto importante per il bene di tutti e quindi dovrebbero controllarlo a prescindere se si è sul treno, se si è fuori, ovunque si va. Infatti questa mattina non ce l'hanno controllato, ma sul treno lo faranno? Speriamo. Penso sia un'iniziativa giusta e ci fa viaggiare più sicuri. Lei il treno lo prende spesso? Sì, essendo pendolare faccio spesso Pesaro-Milano. Il Green Pass ce l'ha? Sì. Stamattina non gli è stato controllato? No, per ora ancora no. Sono d'accordo e penso che possa essere una misura preventiva per prevenire appunto un possibile peggioramento e diffusione dei contagi e quindi una possibile nuova reclusione. Secondo me sul Frecciarossa che magari è un treno a parte alta velocità che fa una tratta più lunga è corretto. Ah, sui regionali non li controllano. Secondo lei questo è giusto oppure no? In realtà la tratta è lunga anche sui regionali quindi dovrebbero controllarlo anche lì, però non lo fanno, non so il motivo, però secondo me sì sarebbe giusto.